bambini buongiorno sono la maestra silvia della scuola pascoli e volevo proprio raccontarvi qualcosa di questo bellissimo albo la lepre che andava di fretta di timothy knapman e gemma merino henry è un leprotto che corre sempre va velocissimo qualsiasi cosa faccia un giorno però si tuffa in un gran pasticcio e in questo modo henry conosce tom la tartaruga è una tartaruga che fa tutto molto lentamente va piano piano che cosa succederà quando il leprotto che corre sempre incontrerà la tartaruga lentissima potete trovare le risposte in questo bellissimo albo e nei suoi grandi disegni che sono ricchi di particolari e forse vi faranno anche scoprire in qualche modo quanto è meraviglioso questo mondo ciao